Hai mai avuto timore dell'aggressività di Emanuele? A volte sì. E' un problema di rispondere per sempre con una seria. Ok, ripeto. Allora, dove le dici? Il letto. Pensi che il carattere di Emanuele potrà essere un problema reale della nostra situazione? No, non credo che possa essere un problema reale. Se Davide lasciasse Emanuele e ti cercasse, tu sarei tutta sposa a tornare con lui? No, non lo troverai con Davide. E adesso abbiamo le ultime due domande. Sì, non è un problema di Davide. No, non sono assolutamente lavorato in Davide. Ok. Grazie. Grazie. Grazie.